Buonasera, sono Alessandro Rosina, insegno demografia e statistica sociale alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, dove dirigo anche il Dipartimento di Scienze e Statistiche e un centro di ricerca di statistica applicata alle decisioni economiche e aziendali, dove facciamo un po' di ricerca con le aziende. E poi un altro aspetto che in parte è connesso anche a qualcosa che dirò dopo come discussante su questi temi, coordino quella che negli ultimi anni è diventata anche l'indagine principale sui giovani in Italia, che è il rapporto giovani dell'Istituto Toniolo e che è un osservatore privilegiato su quello che sta cambiando nel sistema paese attraverso lo sguardo, le fragilità e le potenzialità delle nuove generazioni. Sono della Sant'Agata, mi occupo del digitale della Mondadori, della casa editrice, quindi tutti i siti web della casa editrice e lavoro nel digitale dal 99, quindi ho iniziato quando ho appena iniziato il web, ho iniziato in quello che allora era Virgilio, quindi un grande portale, adesso un po' superato, ma era una cosa molto grande. Poi ho continuato facendo alcune start-up e gestendo prodotti digitali da minori, ma comunque interessanti come già lo zafferano nella cucina, studenti.it per i giovani e molti altri. Oggi, visto che mi è stato chiesto di parlare di innovazione, delle sfide e dei ritardi dell'Italia, non ho la presunzione di parlare di un tema così ampio, cercherò di affrontarlo dal mio punto di vista, che è quello che ha visto sempre l'innovazione legata alla chiave del digitale. È indubbio che in questo momento ciò che sta portando alle maggiori innovazioni in tutto il mondo è legato a tre parole. Tecnologia, la potenza di calcolo non è mai stata così forte e in crescita come negli ultimi anni. Ormai si pensa che fra una ventina d'anni ci saranno computer in grado di autoapprendere. Sta già succedendo, sta succedendo i computer che riescono ad apprendere le lingue da sole, un computer che ha battuto da poco un grande campione in un gioco che non mi ricordo, quasi impossibile, facendo una mossa, un gioco asiatico, facendo una mossa che è stata considerata da tutti i campioni presenti che guardavano errata e quindi hai mosso questa pedina, perderai, alla fine della partita la macchina ha vinto contro l'uomo. L'altro driver è il digitale che non è esattamente la cosa, il fatto che l'informazione e tantissimi i dati non siano più fisici ma siano digitalizzati e quindi si possano spostare in un istante da un capo all'altro del mondo. Questo di fatto ha ridotto lo spazio-tempo, se ci pensate. Ormai non c'è più bisogno di aspettare una lettera che arriva dagli Stati Uniti o di trasmettere un'informazione. È tutto istantaneo e quindi lo spazio si è ridotto. L'altra cosa è il web, la rete. La rete è come se il digitale fossero le automobili, la rete è l'autostrada. Sappiamo che le reti sono sempre state quelle che hanno portato ai cambiamenti nell'umanità. Le strade sono state la cosa che ha fatto l'impero romano, è stato fare le strade, ha congiunto il mondo e l'intescambio che ha viaggiato su queste strade ha cambiato il mondo. E' la qualità delle strade, se ci pensate, perché poi vedremo anche la qualità della rete è come la qualità delle strade. Cioè si arrivava da Roma a Milano prima che ci fosse l'autostrada, ma da quando c'è stata l'autostrada il paese ha cambiato completamente fisionomia, perché da Roma a Milano ci si arrivava in maniera molto diversa. Vedremo che il digitale è un po' come l'elettricità come portata. Cioè è probabilmente dopo l'elettricità la rivoluzione con il maggiore portata, che sia sociale o economico o culturale, dopo l'avvento dell'elettricità. Vediamo se riesco a... c'è una presentazione, ecco qua. Ora, purtroppo io pensavo ci fosse uno schermo più grande, ma questo solo per far vedere, si vede molto poco, che tutto nasce intorno alla fine degli anni 90, il primo browser si inizia a navigare, le prime cose che nascono sono i motori di ricerca, l'e-commerce e la mail, lo vedremo dopo. La trasformazione non si esaurisce mai, nel senso che iniziano le trasformazioni legate alla produzione di contenuto, YouTube nei video, i blog, si continua con tutto ciò che c'è l'innovazione dei device, gli smartphone, i social network, che cambiano ancora altre cose, ormai fino ad arrivare a connettere tutti i device e vedremo cosa questo comporta. Questo, scusate, ci sono delle immagini che non ci dovrebbero essere, ma quello vuole essere il motore di ricerca Google, probabilmente questa è la prietra miliare di qualcosa che cambia. Prima dell'evento del web, la conoscenza risiedeva in questo palazzo, risiedeva nelle enciclopedie, nelle università e nei giornali. Poteva risiedere in un'enciclopedia in quanto tutto ciò che si sapeva e si doveva consultare, si poteva consultare in ordine alfabetico. Per quanto un'enciclopedia fosse ampia, non aveva bisogno di qualcosa che non fosse un indice per essere consultata. Per darvi un'idea, il digitale ha cambiato profondamente questo e qui entriamo già in alcune cose che lo caratterizzano profondamente. Intanto la grande differenza fra la conoscenza sul digitale e la conoscenza prima del digitale è che prima la conoscenza era in mano alla professione della conoscenza, che fosse l'università, che fosse delle aziende, che fosse delle case editrici, era prodotta nei posti in cui si produceva il sapere. Era prodotta da un numero abbastanza ristretto di persone che ne producevano una quantità importante ma consultabile in grandi biblioteche, leggendi giornali. Perché esiste il motore di ricerca? Perché per darvi un'idea, ogni anno vengono immessi in rete la stessa quantità di informazioni di tutti gli anni precedenti fino all'inizio dell'umanità. Quindi ogni anno che passa, nel 2007 verranno immessi in rete una quantità di informazioni pare a tutte quelle che l'umanità ha prodotto da quando è nata al 2006, al 2016. Cioè immaginate che cosa esponenziale è questa. E questo perché succede? Succede intanto perché l'informazione e la conoscenza non viene più generata solo nei posti del sapere, ma tutti immettono. Anche il cittadino comune immette tutto quello che sa. E l'altra cosa che l'ha cambiata è la facilità di immissione. Tutti, dai professionisti della conoscenza ai non professionisti, hanno una grande facilità di immettere questi contenuti in rete. L'altra cosa che questo crea, crea uno spazio infinito. La digitalizzazione è importante perché è la prima volta che lo spazio è potenzialmente infinito. Prima io potevo avere anche più lemmi di enciclopedia. Non solo mi costava molto produrli, ma avevo bisogno di spazio fisico, di carta. Adesso, se facevo un negozio di dischi, dovevo scegliere 10.000 dischi, perché a un certo punto i metri quadri del negozio finivano. Se producevo un giornale, dovevo decidere le notizie da far stare dentro le 20 pagine del giornale. Se vendevo in uno store, dovevo decidere quali erano i prodotti da vendere. Adesso lo spazio diventa infinito. L'altra cosa che porta il digitale è una grande democratizzazione. Con tutti i suoi difetti, abbiamo letto di Trump, delle informazioni finte, ognuno di noi ha accesso a una quantità di informazioni imparagonabile rispetto a prima. E avere accesso all'informazione è democrazia. Nel senso che chi possiede l'informazione e la conoscenza decide per chi non la possiede e per chi non riesce ad accedere. Altre cose che sono cambiate, la comunicazione. Si comunicava via telefono, adesso ci sono mille forme di comunicazione. Anche qua c'è un paradigma che è cambiato. Se pensate, la comunicazione era a pagamento, come anche gran parte dell'accesso al know how e all'informazione. L'altra cosa che porta il digitale è che quasi tutto diventa gratuito. Ormai si può comunicare gratuitamente con l'altra parte del mondo. Si può accedere a un sacco di informazioni gratuitamente. Non è detto che il gratuito sia meglio, perché gratuito poi porta spesso, soprattutto se si parla di informazione, di notizie, a un abbassamento qualitativo. Ma sicuramente è un cambio di paradigma. Il fatto che scambiarsi le cose costi molto poco fa sì che molte cose possano diventare gratuite. Questa cosa porta a un altro grande cambiamento che può piacerci o non piacerci, che è quello di portare un grande vantaggio al consumatore. Quindi noi come persone siamo tanti ruoli. Siamo lavoratori, siamo consumatori e poi siamo tante altre cose oltre che lavoratori e consumatori. Spesso come lavoratore il digitale mette in crisi determinate modi di fare e quindi mette in crisi anche determinati lavori. Abbassa spesso anche la qualifica media, eccetera. Come consumatore ci ritorna però tutto indietro questo perché diventa gratuito tutta una serie di cose che prima pagavo e che pagavo caro. Quindi è uno shift di paradigma a pro o contro a seconda di che faccia di noi stessi guardiamo. Un'altra cosa che è cambiato è il modo di acquistare le cose con l'e-commerce. Qui si ritorna al concetto di non solo grande convenienza, non solo il fatto che non sono più barriere di spazio. Io posso trovare qualsiasi oggetto che prima magari doveva andare a cercare in un negozio molto lontano da me. Lo posso trovare a portata di click nel mio computer. Normalmente costa meno che se lo compro nel negozio. Perché? Perché non c'è bisogno di stoccare le cose nel negozio. Quindi chiaramente costa meno e ne trovo tantissimi. Nessun negozio al mondo avrà mai il numero di pezzi venduti di Amazon. Perché sono finti, perché sono digitali, perché non ho bisogno di averli tutti in un negozio fisico. Poi sono arrivati nel 2007 i social media. Fino al 2007 la rete, se ci pensate, era una rete fatta di contenuti, i siti web o le pagine web, e di link fra i contenuti. I rami della rete erano le connessioni fra i contenuti. Con i social si sovrappone una rete di persone. Cioè i social media diventano una specie di... È la piazza che diventa virtuale. Come tutte le piazze virtuali ci può piacere o non piacere. Qui io non do mai giudizi positivi o negativi. Ogni aspetto di quello che sta succedendo ha degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. In piazza si è sempre sparlato anche male delle persone. Si sono sempre diffuse anche notizie false. Però in piazza si è sempre fatto anche la relazione fra le persone. Si sono mantenuti i contatti, eccetera. Questa cosa si è spostata nei social amplificandolo chiaramente. Perché prima in piazza avevo bisogno della vicinanza fisica. Adesso ha abbattuto il problema della vicinanza fisica. È cambiata tantissimo l'informazione. Quella che vediamo in bianco e nero è una foto degli anni 60-70. Vedete che c'era la famiglia intorno alla televisione col padre o la madre che leggeva nel giornale cartaceo. Ora ci può sembrare la stessa cosa. C'è sempre la televisione con dei device in mano. In realtà è cambiato tutto. Perché nell'informazione prima avevamo, pensiamo agli anni 80-70-80, dieci canali televisivi. Più o meno cinque testate televisive di informazione. Leggevamo uno, due, c'è anche chi arrivava a tre giornali. Punto. Questo era il nostro modo di informarsi. Adesso ci informiamo. Televisivamente i canali sono diventati centinaia. Se andiamo a vedere ora l'offerta on demand che sta arrivando, migliaia. Se andiamo a vedere poi il modo di informarsi online, non esiste quasi più il concetto di testata. Nel senso che io non leggo la Repubblico, il Corriere della Sera. Io trovo un'informazione online. Ogni singola informazione, poi la ricompongo io l'informazione. E' giusto? E' sbagliato? Non lo so. Ma sembra tutto uguale, ma anche in questo caso tutto è cambiato rispetto a prima. Questo che si vede pochissimo ci fa vedere semplicemente l'adozione degli smartphone negli anni, che è la linea rossa. Gli smartphone, diciamo, la prima fase della rete è stata una rete in cui tutti noi ci connettevamo da dei personal computer. Con quello che è. Gli smartphone stanno avendo una velocità di penetrazione che non è mai esistita nella storia. Ormai avere in mano un oggetto del genere è un po' come diventare dei supereroi con dei superpoteri. Pensate che con questo che io ho in mano c'è la stessa potenza di calcolo del computer che ha spedito i primazionati sulla Luna. Cioè usavano un PC alla NASA che aveva la stessa potenza di calcolo di questo oggetto. Questo oggetto non solo mi fa connettere, mi fa telefonare, mi fa mandare mail, mi fa comprare cose, mi fa trovare delle cose su delle mappe, mi fa giocare. Cioè fa una quantità di cose che se razionalizziamo, perché ora ci sembra tutto normale, per fare tutte le cose che io faccio con questo, vent'anni fa dovevo avere una quantità di oggetti a disposizione, spendere una cifra tale che ora è tutto nelle mie mani. Questa cosa cambia nuovamente il modo di fare mille cose, pensiamo solo alla geolocalizzazione. Questo oggetto sa sempre dove siamo. Cioè quindi è possibile vedere cos'ho vicino, fare cose completamente diverse che in passato. La digitalizzazione porta anche conseguenze molto forti. Il mercato della musica stava fallendo. C'è stato un momento a cavallo, diciamo, fra il 2000 e il 2007, in cui sembrava che il mercato della musica dovesse chiudere e che quindi non avremmo più avuto musica. Era il momento in cui c'era la pirateria della musica online e nessuno comprava più le cassette e le cose. A un certo punto è arrivato un signore che si chiamava Steve Jobs e ha fatto una roba che si chiamava iPod, quell'oggettino per ascoltare musica. e ha detto, secondo me, la gente tornerà a acquistare musica. Quel signore cosa ha fatto? Ha fatto una rivoluzione nel mondo musicale. Lui ha consentito intanto di comprare una singola canzone, invece che prima si dovevi comprarti l'album, anche se volevi una sola cosa. L'ha reso a costo molto accessibile e di elevata qualità. La gente l'ha seguito, il mondo della musica è iniziato a trasformarsi e si sta trasformando ancora. Adesso ci sono servizi che ti fanno abbonare mensilmente a dei servizi in cui, se tu ti abboni, puoi ottenere e ascoltare musica in maniera illimitata. Tu mi dai 10-20 euro al mese e puoi ascoltare tutta la musica esistente. Questo si può fare perché tutta la musica esistente non te la devo mettere in casa. La tengo in dei server, in delle macchine, ovunque nel mondo, e quando tu me la richiedi io te la trasmetto e tu te l'ascolti. Quindi cambia completamente. Questo sta facendo risollevare un mercato che stava morendo. Però se pensiamo, la Sony, cos'era la Sony? Non è più la Sony. Cioè la musica non è più in mano alla Sony. È successo nella musica, come sta succedendo nell'informazione, come sta succedendo nelle telco. In tutti i mercati che abbiamo visto si sono distrutte delle industrie e si sono create delle nuove industrie. Fatte da operatori che spesso non sono quelli che lo facevano prima. È la stessa cosa che ci diciamo sempre. Chi faceva le candele non ha fatto le lampadine. Chi faceva i cavalli non ha fatto le automobili. Le esigenze delle persone sono rimaste lo stesso. Avere l'illuminazione, spostarsi. Viene fatto in maniera più efficiente. Viene fatto in maniera più efficiente, a minor costo, da player, da operatori, diversi da quello che l'hanno fatto fino al giorno prima. Questo porta anche a degli impatti pesanti. Anche a degli impatti di operatori che lo facevano prima. Vuol dire perdita di posti di lavoro, ricreazione. Porta anche a impatti normativi. Perché tutto questo deve essere normato in maniera diversa da prima. Sta succedendo nei film. Prima avevamo le videocassette. Adesso ormai stesso modello. Ti puoi connettere a dei servizi Netflix dove con 10 euro al mese tu hai accesso quando vuoi a una library di film, di documentari. è veramente molto ampia. Non lo ha fatto Blockbuster, l'ha fatto un nuovo player. Un'altra cosa che sta succedendo, questo è il mercato dei viaggi, dove c'è un'altra grande trasformazione. Pensate come viaggiavamo prima. Viaggiavamo che andavamo in un'agenzia di viaggi che ci prenotava delle cose. Adesso, vabbè, credo che nessuno ci si può prenotare tranquillamente un albergo da soli in qualsiasi momento. Ed è già una rivoluzione. Ma con Airbnb stanno succedendo rivoluzioni più importanti. Adesso, se una persona ha sfitto una casa, un appartamento, per un periodo, lo può affittare a qualcun altro. Cosa è successo? È successo che ci siamo accorti che avevamo tantissimo cose vuote. Avevamo case che rimanevano vuote. Avevamo taxi che rimanevano vuoti. Avevamo tempo nostro che rimaneva vuoto e che potevamo impiegare. La rete ha fatto sì che fosse facile far incontrare domande e offerta. Quindi, se tu vuoi venire a Roma e io ho un appartamento vuoto, puoi venire nel mio appartamento. L'appartamento non è più vuoto, io guadagno qualcosa. Chiaramente tutto questo va normato. Bisogna pagarci le tasse, bisogna garantire... Chiaramente questo mette in crisi gli alberghi. Quindi, da una parte creo valore e dall'altra metto in crisi il precedente modo di fare la stessa cosa. Sicuramente è come sempre un vantaggio per il consumatore. Probabilmente mi prendo un'intera casa a Roma a meno del prezzo della stanza di un albergo. Semplicemente perché quella casa tanto era vuota, quindi a me non costa niente dartela X. La stessa cosa sta avvenendo, guardate che tutte le volte c'è in mano questo oggetto, sta avvenendo nel mondo del trasporto. Uber, ci sono delle macchine con autista, un tempo andare in giro con una macchina nera con autista era un lusso. Adesso non è più un lusso perché queste macchine, soprattutto negli Stati Uniti, stavano ferme tantissimo tempo. Hanno capito che era meglio connettersi in rete a della gente che ti chiama e tu arrivi e farglielo pagare meno che rimanere vuote. Come stiamo capendo, a Milano Enjoy sono quelle macchine che l'ENI lascia sparse per la città, tu sali sulla macchina, la riconsegni dove vuoi e l'ENI che fa il servizio sa quanti chilometri hai fatto e ti addebita 5 euro. 5 euro, 10 euro possono sembrarmi tanti, ma se uno guarda quanto gli costa avere una propria macchina che ormai non usa mai, che usa pochissimo e su cui paga l'assicurazione, la manutenzione, eccetera, il fatto di riuscire a connettere, di far sì che lo spazio, io riesco a trovare facilmente tutto quello che mi serve in maniera molto efficiente, mi costa molto poco, rivoluzione in questo caso il modo di muoversi. Fra l'altro ci sono degli studi molto interessanti che fanno vedere quanto proprio spazio fisico noi occupiamo nelle nostre città per macchine che sono vuote, per macchine che stanno tutto il tempo parcheggiate vuote in quello spazio fisico. Detto questo, io ho detto tutto questo per dire il digitale è una grande opportunità, chiaramente ha dei rischi, chiaramente mette in crisi dei mercati, li fa evolvere, perché questa opportunità sia una vera opportunità hai bisogno dell'infrastruttura portante di questa opportunità. L'infrastruttura portante è la rete, è la rete che ci porta a casa la connessione per poter fare tutto questo. in questo il paese può sembrare molto banale, il nostro paese è uno dei paesi più indietro. In questo momento è connesso circa il 60% della popolazione quando nel resto d'Europa è connesso il 70% della popolazione in media. Quindi vista così siamo indietro ma non siamo drammaticamente indietro. ma se vediamo quest'altra slide quest'altra vediamo una cosa molto diversa perché in realtà la rete non è tanto il fatto che a casa mi arrivi il telefono a cui posso collegare il computer e collegarmi in rete è con che qualità e con che velocità io mi collego in rete la famosa banda larga. Su questo il paese è drammaticamente indietro cioè noi abbiamo una vera banda larga che connette il 22% della popolazione quando nel resto d'Europa è il 60%. La banda larga per farvi un'idea sì ma è una fissazione è esattamente come le autostrade è come dire se a Roma prima ci andavo con una statale e adesso ci vado in autostrada da quando ci vado in autostrada cambia tutto finché ci vado con la statale e ci metto il triplo del tempo ad arrivare a Roma Roma e Milano sono collegati in maniera diversa. Per fare un altro paragone è la stessa cosa che vedere una televisione in bianco e nero che devo sintonizzare il canale o la voglia che mi viene di starci se è a colori in alta definizione con mille canali dentro. Il fatto che non ci sia l'infrastruttura di base non abilita tutto quello che abbiamo visto e infatti siamo il paese digitalmente che genera meno ricchezza digitale fra tutti quelli europei. Stiamo recuperando per fortuna da questo punto di vista nel senso che noi italiani siamo fissati con i cellulari e con i cellulari e con gli smartphone stiamo recuperando da questo punto di vista. Un'altra cosa abbastanza drammatica dal mio punto di vista è quanti italiani sono completamente esclusi dall'uso di internet. Un italiano su tre proprio non ha mai avuto accesso a questo mezzo. è esattamente la stessa cosa che se un italiano su tre non avesse avuto accesso negli anni settanta alla televisione è quello che questo comunque ha portato nel cambiamento o addirittura mi spingerei a dire non potesse andare a scuola o cose del genere. Stiamo creando una fetta della popolazione completamente esclusa da tutto quello che abbiamo visto. Vuol dire alla fine banalizzandola a creare una fetta della popolazione non solo meno informata con meno opportunità ma di fatto più povera. Se lo andiamo a vedere dal punto di vista geografico più escura la mappa più vuol dire che non ci si connette quanti non si connettono mai nel sud Italia quasi il 50% della popolazione è escluso dalla rete non si connette alla rete chiaramente questo vuol dire che non solo stiamo dividendo la popolazione fra più ricchi e più poveri e chi sarà più ricchi e più povero ma anche geograficamente stiamo continuando ad aumentare le differenze nel paese pensate solo al sud Italia con tutto quello che il turismo porta la rete è il più grande volano e il web del turismo ormai muove completamente il turismo mondiale pensate se il sud Italia che è una risorsa ricchissima in questi termini averlo sconnesso vuol dire che sta perdendo probabilmente ci sono persone che in questo momento non vanno in Sicilia e vanno in un qualsiasi bel paesino della Francia molto meno bello di un paese siciliano solo perché il bel paese della Francia si è fatto un bel sito web si pubblicizza bene in rete dà dei servizi agli utenti e muove dell'economia che va e questo è una cosa sul mercato del lavoro in Italia ci sono molti pochi giovani che lavorano nel digitale ci sono molti pochi giovani per due motivi che lavorano nel digitale uno perché non facciamo formazione ai nostri giovani sul digitale non gli insegniamo l'uso della si chiama coding di come programmare il software e se ci pensate è assurdo perché l'informatica l'Italia è stata una delle nazioni dove è nata l'informatica è stata con l'Olivetti una delle nazioni dove è nato il personal computer è stata con la Telecom una delle nazioni prima a essere connessa col telefono di un certo tipo poi a partire dalla fine degli anni 90 eravamo i primi nel telefonia mobile con allora Omniter se vi ricordate eccetera che poi abbiamo venduto a due lire a Vodafone che ne ha fatto un gioiello l'Italia ha smesso completamente negli ultimi 15 anni di scommettere nella formazione di tipo tecnologico avanzata e nelle infrastrutture portanti per questo e questo si vede anche nella scuola nella scuola non formiamo i ragazzi a questo non formarli a questo non vuol dire solo che gli facciamo perdere delle opportunità per darvi un'idea nel nostro settore nella mia azienda negli ultimi anni nell'ultimo anno abbiamo cercato circa 15 nuove posti di lavoro io ho ricerche aperte da un anno cioè persone che non trovo da un anno in campo tecnologico digitale non si trova nessuno e poi ho un fratello che ha fatto storia bravissimo che ha fatto un percorso di eccellenza nel campo umanistico che è disoccupato a 32 anni lì è comunque un errore del paese che è una persona molto brava che ha fatto storia e risulti disoccupato a 32 anni però vuol dire anche che abbiamo indirizzato male dei talenti che probabilmente se andavano in un'altra direzione avrebbero potuto avere altre opportunità ma ultima cosa non gli stiamo dando gli strumenti interpretativi pensiamo ecco e chiudo così lascio la parola all'altro relatore e a voi per delle domande pensiamo alla polemica di Trump sulle informazioni false è chiaro che quando si crea una piazza si crea anche gente che inizia a dire robe non vere volontariamente o non volontariamente non è certo con la censura che si risolve questo perché io sarei molto preoccupato di dire di far decidere a qualcuno di decidere se una cosa è vera o non vera perché poi uno come si fa a capire subito se una cosa è vera o non vera due chi si prende e chi si arroga il diritto di dirti tu puoi pubblicare tu non puoi pubblicare poi sappiamo che diamo questi poteri in mano a qualcuno partendo anche per il bene spesso arrivano a conseguenze non positive di censura ma dobbiamo dare invece alle nuove generazioni la cosa di poter interpretare se una notizia è vera o non vera e se quella cosa è un urlo di piazza o invece è un ragionamento che deve essere seguito in questo la scuola deve essere un primo punto anche in questo di educazione civica al digitale perché alla fine non solo questo crea occupazione ma crea i cittadini di domani io ho finito volevo quindi far capire che secondo me stiamo perdendo una grande opportunità in un paese che ce l'ha avuta in mano questa opportunità la stiamo perdendo perché abbiamo scelto in maniera scientifica di difendere tutto ciò che era vecchio cioè noi non abbiamo fatto la banda larga in questo paese perché avevamo paura che la gente telefonasse di meno e invece perché con la banda larga potevi comunicare gratuitamente noi non abbiamo fatto la banda larga in mobilità per tanto tempo io lavoravo in telecom perché gli sms rendevano tantissimi soldi noi abbiamo frenato il modo di fare informazioni in rete perché probabilmente a determinati gruppi di cui faccio anche parte televisivi faceva garantiva degli interessi maggiori avere determinate cose o difendere il più possibile i giornali finché reggevano nella loro condizione sulla carta e così via questa cosa ora la stiamo pagando al quadrato perché tanto è come dire cerchiamo di preservare le candele ci piacevano di più le candele ma a volte a me piacevano anche di più le candele vieneva molto più bella la cena l'umidi candela peccato che se il mondo va verso le lampadine se tu non ti muovi per primo ci sarà qualcuno che si muove per primo e adesso tutta questa economia è in mano a colossi americani che ce la stanno di fatto importando noi la stiamo importando da colossi americani che dettano le regole della nuova economia e di come questa deve funzionare esattamente come facevano l'impero romano quando andava nelle colonie e gli diceva cosa andava consumato e cosa andava fatto e cosa non andava fatto bene spero che si senta anche questo mentre parlavi mi sono preso un po' di appunti così ti do alcune sollecitazioni e poi magari ci confrontiamo il collegamento con nuove generazioni e scuola e formazione è il punto da cui partirei e partirei in particolare appunto dai giovani anche perché tra l'altro le considerazioni che facevi alla fine cioè rendere i giovani competenti e con la possibilità di utilizzare in modo giusto sia il digitale che la ricchezza che anche i social media mettono a disposizione ma con consapevolezza è uno dei temi tra l'altro che stiamo approfondendo con il rapporto giovani uno dei prossimi approfondimenti che faremo è proprio esattamente su questo cioè su come utilizzano i social media tutta la questione dei troll degli attacchi delle bufale come le vivono loro se le hanno subite e come si stanno regolando orientando rispetto a una navigazione a vista visto che manca una bussola ancora adeguata per riuscire a capire dove trovare insomma l'isola del tesoro che potrebbe quindi dare una svolta alla loro vita alla loro possibilità di essere una generazione che produce nuovo in senso qualificato e diventa una risorsa per il paese quindi uno dei temi è questo l'innovazione ha un aspetto tecnico tecnologico ma non solo perché l'aspetto della scuola della formazione quello che stavamo dicendo lo enfatizza e io metterei al centro la questione di come consentire ai nuovi di produrre nuovo questo penso sia l'elemento che sta un po' al centro della riflessione ai nuovi quindi alle nuove generazioni ma non solo cioè tutti quelli che si affacciano senza posizioni precostituite che si immettono nella società nel mondo del lavoro e come diventare parte attiva qualificata di produzione di nuovo questa è l'innovazione di fatto e tra i limiti del nostro paese c'è questo da un lato il poco spazio che stiamo dando e abbiamo dato ai nuovi alle nuove generazioni cioè più messe da parte più lasciate in panchina e dall'altro messo poco questi nuovi anche quando lo spazio lo trovano nelle condizioni di produrre nuovo e il fatto che trovino poca opportunità di valorizzazione come capitale umano e di lavori altamente qualificati e nel digitale rispetto ad altri paesi dimostra anche questo noi tra l'altro di giovani ne abbiamo anche meno per motivi demografici ne abbiamo anche meno perché anche queste resistenze difficoltà gli spingono molto anche ad andare all'estero e poi gli diamo poco spazio e diventa insomma un circolo vizioso quindi la necessità invece di spezzare questo circolo vizioso e generare un circolo virtuoso che sposta al rialzo sia l'offerta che la domanda di innovazione perché le nuove generazioni ma tutta la popolazione sta alla base della possibilità di chiedere il nuovo qualificato e sia di produrlo in maniera adeguata e avendo come motore le nuove generazioni perché possono essere la spinta più rilevante nel rialzo il rapporto fra domanda e offerta di innovazione di qualità questo è ancora più importante in questo quadro storico e in Italia perché è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per uscire un po' dall'angolo in cui ci troviamo e quindi ribaltare proprio la condizione delle nuove generazioni da perdenti che chiedono protezione dai rischi del mutamento ed è un po' tutto il paese che è diventato questo per quando dicevi l'SMS la telefonia eccetera un paese che si è spostato in difesa ma ancora di più ha spinto la nuova generazione a spostarsi in difesa e a spostarsi nella passività e ad essere quindi anziché cittadini intraprendenti a rimanere a lungo figli dipendenti dai propri genitori quindi da perdenti in un paese che rischia quindi il declino non cogliendo le opportunità del cambiamento e difendendosi solo dai rischi a soggetti del cambiamento capaci di intravedere cogliere e al meglio le nuove opportunità quindi questa è la condizione che secondo me dobbiamo ribaltare grazie all'innovazione e a quello che appunto la trasformazione tecnologica innovativa ci consente di poter fare anche come strumento a disposizione delle nuove generazioni ecco rispetto a questo c'è la questione dei freni dei ritardi che abbiamo davanti che sono non solo infrastrutturali ma sono anche culturali e che stanno quindi alla base anche del perché abbiamo dei freni e dei ritardi infrastrutturali e forse anche da lì dovremmo capire cosa non sta funzionando perché da troppo tempo non riusciamo a metterci nel percorso giusto da decenni ormai e sui freni tocco alcuni punti ma anche per sapere un po' anche la tua riflessione su questo uno c'è un punto rispetto a cui noi dobbiamo sbloccarci ed è la sfiducia nei confronti delle istituzioni e questo è un elemento che ci blocca e rispetto al cui dobbiamo perché diventa un freno al cambiamento perché se ci crede meno nelle istituzioni c'è meno senso di appartenenza sociale c'è meno senso di un futuro comune rispetto al quale ci si incanala e si procede e c'è quindi un paese in cui ciascuno agisce quasi indipendentemente e guardando al proprio orticello anziché mettere a sentirsi ciascuno nel fare qualcosa di positivo leva perché tutti insieme si vada in una certa direzione e si possa fare tutti assieme di più quindi un elemento è questo un altro aspetto che è cresciuto molto nei giovani che un po' li sta bloccando è la consapevolezza che tra l'altro si è incentivata anche con la crisi economica perché è stato un elemento anche questo che è caduto e che poi ha complicato un po' il quadro la complessità crescente e la crisi economica ed è la consapevolezza che nei giovani si è consolidata negli ultimi anni di avere strumenti più ridotti in Italia per poter dimostrare quanto valgono di poter cogliere le opportunità di avere opportunità nel proprio sistema paese questa è una domanda proprio che abbiamo posto non solo ai giovani italiani ma anche a fini comparativi anche con i coetanei degli altri paesi quando parlo di giovani parlo dai 18 ai 29 anni insomma una fascia un po' larga insomma ci fa capire un po' anche un percorso di transizione alla vita adulta che è un po' posticipato nel tempo bene nel chiedere ai giovani italiani se pensano che in Italia ci siano opportunità adeguate per persone con la propria formazione il 75% ha risposto poco per nulla contro meno del 10% dei giovani tedeschi quindi questa consapevolezza di essere in un contesto che ti dà meno opportunità rispetto al tuo valore è cresciuto nel tempo e anche questo è un problema perché cosa porta a questo? Porta o a rassegnarsi cioè a rimanere in Italia ma rassegnandosi e quindi accettare una condizione a ribasso nel dare di meno rispetto alle tue potenzialità o decidere di andare all'estero ma decidere di andare al resto vuol dire che noi cediamo soggetti attivi di innovazione ad altri paesi di fatto e questo quindi va a depotenziare ulteriormente cioè uno degli aspetti che tu hai messo in luce cioè la centralità per l'innovazione dell'infrastruttura e della rete va accompagnata da un altro elemento fondamentale dell'innovazione che sono le persone e la questione della scuola della formazione dell'incentivare nel motivarli ad essere soggetti attivi di processi di sviluppo e di metterci e di pensare alle nuove generazioni non come nuovo che arriva per prendere il posto di chi c'era prima ma nuovo che arriva per creare nuove opportunità nuovi posti e nuove occasioni più in linea con i tempi e più vincenti rispetto alle sfide che si hanno davanti un altro aspetto culturale che metterei lì e che è un freno alla possibilità dei giovani di essere soggetti attivi di innovazione qualificata è anche questa iperprotezione della famiglia d'origine questa contrapposizione da un lato siamo un paese che investe poco sulle nuove generazioni e dall'altro però siamo un paese che iperprotegge molto come i propri figli all'interno delle famiglie e questo può renderli fragili può renderli meno intraprendenti può renderli meno dinamici o può ritardare la possibilità di fare esperienze di assumere rischi di provare a sbagliare di mettersi in gioco e di riprovarci nel caso appunto le cose non funzionano quindi ci sono alcune esperienze che vanno fatte nel momento giusto al tempo giusto e quando si è giovani e impari attraverso quelle esperienze lì se invece ci ritardi a farle perché comunque il contesto non è supportivo non ti aiuta non è stimolante e comunque il tuo benessere lo conservi perché la famiglia ti protegge abbiamo meno possibilità che quei soggetti attivi abbiano un ruolo di rilievo l'altro l'ultimo punto che tocco su questi freni è quello delle competenze che lo metterei sia come freno che come sfida quindi cos'è che possiamo fare per irrobustire ulteriormente adeguatamente le nuove generazioni all'interno di questo ruolo è quello di rafforzarli sulle competenze e farlo in senso ampio non solo sulle competenze tecniche ma anche sulle competenze sia cognitive che attitudinali non bastano le competenze tecniche e qui ci sono dei problemi allora sulle competenze di base c'è l'indagine che ha fatto l'Oxet un'indagine che si chiama PIAC che è andata a misurare le competenze di base fondative sia in termini di literacy che di numeracy sui giovani adulti italiani e anche sugli adulti e purtroppo quello che è emerso e questo va anche a confermare l'aspetto della carenza poi del sistema formativo che questo tipo di competenze i giovani adulti italiani ce le hanno di meno e sono su posizione più basse rispetto agli altri paesi che sono entrati nell'indagine quindi vuol dire che su queste competenze che vengono considerate come competenze di rilievo oltre a quelle tecniche per avere successo sia nella vita professionale che nella vita quotidiana nel ventunesimo secolo sono più carenti in Italia siamo agli ultimi posti insieme alla Spagna tanto per capirci e quindi questo è un punto su cui dobbiamo fare molto di più sulle competenze digitali hai detto un po' di cose per far capire però che non dobbiamo nemmeno avere alibi e che dobbiamo anzi cercare di potenziare anche le specificità del sistema paese faccio un esempio allora tu ci dicevi da un lato ad esempio il turismo nel sud Italia il fatto che poche aziende poche imprese siano online è un problema perché hanno meno opportunità dall'altro il fatto che molti giovani non abbiano competenze digitali adeguate e non lavorano nei settori digitali è un problema perché non possiamo rialzare entrambe queste cose assieme perché non possiamo combinarle cioè da un lato ci sono aziende che avrebbero bisogno di competenze digitali dall'altro ci sono giovani che potrebbero averle queste competenze digitali che le potenzialità per averle ce le hanno e perché quindi non gliele diamo le inseriamo nelle aziende che ne hanno bisogno e quindi creiamo opportunità qualificate di lavoro per i giovani e facciamo crescere le piccole medie imprese italiane e trovare un contesto favorevole rispetto al cui possono essere competitivi anche con il resto del mondo mettendo assieme il valore aggiunto che ha l'Italia e il valore aggiunto che ha l'Italia c'è c'è la creatività il problem solving alcune caratteristiche comunque che i giovani italiani hanno e che sono vincenti quando vanno all'estero e che sono ampiamente riconosciute e dall'altro ci sono alcune potenzialità del sistema paese che è il gusto del bello che è il turismo che noi abbiamo di più rispetto ad altri paesi cioè noi abbiamo delle cose in più che non stiamo utilizzando non stiamo valorizzando adeguatamente e ci sono tutte le possibilità per farlo basta solo che ci mettiamo a farlo allora per darvi l'idea di concretezza di questo noi sui giovani abbiamo un tema problematico e è l'alta percentuale di NIT di giovani che non studiano e non lavorano quindi cosa vuol dire che noi li formiamo potremmo formarli un po' meglio va bene poi cosa succede che però finita la formazione non trovano adeguata collocazione nel mondo del lavoro in parte perché non hanno le competenze utili che servirebbero e sono quelli ai livelli più bassi in parte perché le competenze ce le hanno alte ma non c'è un sistema produttivo in grado di valorizzarle e quindi aspettano un po' prima di adattarsi al ribasso oppure se ne vanno all'estero cosa fare allora Google assieme a Garanzia Giovani assieme al Ministero del Lavoro ha deciso di lanciare questo programma che si chiama Crescere in Digitale cioè cosa ha fatto? Ha detto beh ci sono questi giovani che non fanno niente bene diamogli un programma di educazione digitale di formazione digitale online glielo facciamo fare alla fine c'è un test se supero questo test vuol dire che alcune competenze le hanno portate a livello adeguato superato questo test gli facciamo fare un laboratorio e un tirocinio all'interno di aziende che hanno bisogno esattamente di quelle competenze li facciamo quindi incrociare e mettere assieme e da lì nasce l'opportunità quindi del giovane di mettere in pratica competenze teoriche acquisite dell'azienda di vedere l'utilità di queste competenze e alla fine quindi di poter rialzare domande offerte in questo caso nella competenza digitale di competitività nel mondo del lavoro e questo sta funzionando benissimo quindi vuol dire che quando si trova la strada giusta basta pensarci basta mettersi a fare e le possibilità cioè la voglia inutile che continuiamo a piangersi addosso a dire i giovani sono bamboccioni e il sistema produttivo italiano è fatto di piccole e medie aziende quindi non si può investire su ricerca e sviluppo e innovazione cioè noi dobbiamo farlo e trovare soluzioni nuove anche questa è innovazione trovare soluzioni nuove che vanno a valorizzare quello che abbiamo e la specificità che abbiamo alcune cose sono fragilità ma altre cose sono specificità e altre cose sono ritardi non dobbiamo confonderle queste cose i ritardi dobbiamo recuperarli ma alcune specificità dobbiamo valorizzarle e sono cose che abbiamo noi più di altre e che vanno quindi messe assieme l'altro punto e chiudo qui per non prendere troppo tempo è quello dei cosiddetti soft skills delle competenze trasversali che sono molto importanti perché non solo si dimostra che assieme e forse a volte più delle competenze tecniche aumentano l'occupabilità dei giovani molti giovani non riescono a trovare lavoro non solo per la carenza di competenze tecniche ma per carenza di queste competenze trasversali e loro ne sono pienamente consapevoli queste competenze trasversali sono quelle competenze che consentono di trasformare il sapere tecnico le conoscenze del sapere tecnico in partecipazione di successo ai processi innovativi che siano sociali che siano all'interno delle aziende tu acquisisci il sapere tecnico ma poi questo sapere tecnico devi saperlo trasformare in maniera vincente all'interno dei processi innovativi per farlo hai bisogno di queste competenze che sono trasversali che sono la creatività l'intraprendenza il saper lavorare in gruppo l'auto efficacia tutte cose di questo tipo bene in un'indagine che abbiamo fatto su queste competenze sempre sui giovani quello che è emerso è che i giovani hanno una forte consapevolezza di essere carenti su queste competenze che la scuola non gliele fornisce in maniera adeguata e che ne avrebbero invece un gran bisogno per affrontare in maniera adeguata il mondo del lavoro quindi vuol dire che loro hanno una domanda di competenze da migliorare o di voglia comunque di migliorare su queste competenze che attualmente è inespressa e su cui dobbiamo quindi lavorare perché è un gap che diventa fondamentale per potenziare loro per farle inserire quindi in maniera adeguata poi all'interno di trovare lavoro ma poi di entrare in maniera vincente all'interno dei processi di innovazione e non basta quindi là il sapere tecnico bisogna anche trasformarlo e saperlo trasformare attraverso questi aspetti ultima cosa in realtà non ho detto che quella di prima era l'ultima ma aggiungo a questa noi dobbiamo soprattutto se pensiamo nuova generazione e innovazione avere anche ben in mente non solo le specificità del contesto storico non solo le specificità dell'Italia ma anche le specificità anche antropologiche delle nuove generazioni queste specificità perché se noi le riconosciamo rischiamo di mirare male il tiro cioè di non aiutarli adeguatamente a tirare fuori il meglio di sé perché il meglio di sé i giovani possono darlo se noi riconosciamo che loro sono giovani in maniera diversa di come se erano giovani vent'anni fa lo si sarà fra vent'anni e questa diversità va riconosciuta e va aiutata a farla emergere se sono potenzialità o ad aggiustarsi a raffinarsi se sono dei limiti e su questa cosa noi dobbiamo fare una riflessione più grande perché molti dei motivi per cui stiamo perdendo la sfida dell'innovazione è che i soggetti di innovazione che sono i giovani non stiamo riuscendo ad attivarli in maniera adeguata sia come domanda che come offerta di innovazione e rischiano di perdersi anche all'interno della rete quindi non solo di rimanere passivi ma poi di subire anche i rischi allora per darvi un'idea quelli che vengono considerati i millennials che sono quelli che hanno compiuto i 18 anni dal 2000 in poi hanno alcune caratteristiche riconosciute specifiche rispetto alle generazioni precedenti che si possono riassumere in tre C la prima C è quella di connected non a caso connessi quindi nativi digitali però se voi andate a vedere poi loro considerano la rete come l'area che respirano quindi ne hanno bisogno è una cosa che è congeniale il fatto di essere una generazione che è collegata in maniera costante può parlare in maniera costante con qualsiasi altra persona sul pianeta è una cosa che loro sentono propria e che è uno strumento che considero fondamentale di relazione di collaborazione e così via in Italia però se si va a approfondire l'atteggiamento verso il web viene fuori che la rete la considerano molto importante per acquisire informazioni tant'è che più che la carta stampata le informazioni ormai loro la trovano lì per migliorare la consapevolezza cioè rendersi conto del mondo che sta cambiando un po' meno rispetto quindi l'informazione in maniera assoluta riconosciuta consapevolezza gli sta aiutando la rete fino a un certo punto ma che sia uno strumento la rete di partecipazione a processi di cambiamento questo invece non lo vedono ancora in Italia e questo di nuovo è collegato al fatto che fanno fatica quello che vorrebbero fare l'essere soggetti di cambiamento a riuscire a realizzare con la rete infatti la seconda C è quella di cambiamento open to change cioè le nuove generazioni sono gli alliati migliori di chi vuole cambiare ma attenzione non cambiare tanto per cambiare infatti Obama l'hanno votato Hillary non l'hanno votato cosa vuol dire che c'è anche un modo di relazionarsi al cambiamento che non è scontato deve essere un cambiamento che loro riconoscono come positivo in sintonia con le loro aspettative con le loro sensibilità e che sia un cambiamento autentico se riconoscono questo allora diventano i migliori alleati per il cambiamento se no non cambiano anzi vanno sulla difesa e anzi vanno al contrattacco quindi attenzione c'è anche il linguaggio giusto la sensibilità giusta e soprattutto l'approccio giusto per trasmettere la connessione tra la possibilità di cambiare l'intravedere un cambiamento e la possibilità di averli come ingaggiati in questo cambiamento che è fondamentale quindi catterare l'intenzione dei giovani e ingaggiarli non è una cosa per una scontata però quando lo fai produci tutto quello che sei anche di fatto la terza c è quella di confident cioè hanno una grande fiducia in se stessi ma attenzione sono anche facili a demotivarsi quindi se trovano un ambiente supportivo stimolante danno il massimo se invece fanno esperienze negative non vedono riconosciuto il loro valore non vedono risultati in cui vedono anche riconosciuto la loro partecipazione e fanno si demotivano facilmente che sia un'azienda che sia un sistema paese che sia un'organizzazione qualsiasi cosa è molto facile perderli tu puoi anche averli ingaggiati all'inizio aver avuto un'esperienza di successo con loro perché ti hanno votato perché hanno fatto con te un'attività di volontariato perché eccetera eccetera ma se poi non riesci a mantenere con loro un rapporto in cui la loro azione anche successivamente per altri obiettivi continua ad essere di rilievo è facilissimo perderli quindi non funziona più il senso di appartenenza che c'era in passato cioè non operano più per senso di appartenenza operano per obiettivi mirati che però riescono esatto devono ingaggiarli e raccogliere questa energia che loro poi quando lo mettono in campo fa la differenza di queste tre C io ne aggiungerei due quella di collaborativa è una generazione molto ben disposta a lavorare a progetti condivisi co-working sharing economy cloud funding cioè tutto il nuovo tipo di economia di collaborazione economia ma non è solo economia insomma tutta l'attività wikipedia non esisterebbe se non ci fosse la disponibilità a lavorare a un progetto in cui tu ci metti la tua parte per il piacere che quella cosa lì insomma diventi qualcosa di nuovo che prima non c'era e che arricchisce tutti però anche la sharing economy può avere delle controindicazioni può diventare quindi sfruttamento e quindi attenzione processi di cambiamento che poi però devono produrre effettivamente devono essere in connessione con la loro sensibilità e qui c'è perché ci sono modalità diverse non c'è più il possesso del bene ma c'è l'utilizzo del bene ci sono tutta una serie di aspetti che quindi sono positivamente connessi con la loro voglia di fare di mettersi in gioco ma che vanno poi declinati nel modo giusto e qui ovviamente il ruolo della politica e la possibilità che entrino in veri processi di innovazione è fondamentale ma attenzione e qui chiudo deve essere innovazione inclusiva perché altrimenti succedono le cose che facevi vedere nelle ultime slide cioè se noi non combiniamo innovazione e inclusione e quindi un sistema di sviluppo che mette insieme welfare attivo di comunità generativo con sviluppo e innovazione rischiamo che l'innovazione vada a fare profitto per pochi e vada però a aumentare le disuguaglianze e alla fine però crea contraposizione crea risentimento e questo va a frenare i processi di innovazione perché dice ok noi abbiamo siamo aperti all'innovazione ma poi è diventata profitto per pochi e sfruttamento per tanti ma allora era meglio stare fermi era meglio non aprirsi mentre tutte le volte che innovazione e inclusione vanno combinati assieme le cose funzionano perché vuol dire che non stai solo generando opportunità ma stai generando nuove opportunità inclusive cioè per tutti con la possibilità che tutti possano partecipare ognuno con il proprio ruolo ognuno con il proprio contributo ultima C è quella di competenze interculturali questo è un punto molto importante perché non solo c'è l'apertura al nuovo ma se vogliamo che l'innovazione sia vincente deve essere anche apertura alle diversità cioè riconoscimento del valore della diversità la diversità non solo come diritto ma come ricchezza e la possibilità che ciascuno porti la sua diversità e insieme a quella delle altre diventi un valore aggiunto condiviso questa cosa i giovani ce l'hanno come patrimonio e DNA perché comunque stanno crescendo all'interno di aule scolastiche in cui il confronto interculturale c'è quanto meno c'è però sta alla scuola farlo diventare qualcosa di positivo cioè farlo diventare incontro positivo di culture diverse di sensibilità diverse di esperienze diverse che diventino arricchimento per tutti il fatto di poter nella rete confrontarsi con qualsiasi persona al mondo in altri luoghi diversi è un confronto comunque tra culture il fatto di viaggiare così facilmente sia per esperienze di lavoro o per studio cosa che prima non era possibile è di nuovo arricchimento delle competenze interculturali competenze interculturali è importantissimo perché vuol dire riconoscimento della diversità e far diventare quindi il nuovo l'apertura al nuovo e alle diversità un valore aggiunto che mette la persona al centro di processi di produzione di nuovo che devono però avere il sostratto di infrastrutture che poi rialza verso l'alto e consente veramente di andare verso un futuro in cui non c'è solo il nuovo ma c'è il miglioramento della possibilità di produrre e godere di benessere condiviso mi fermo qua grazie aggiungo pochissime cose sì secondo me io mi sono tenuto lontano dal tema dei giovani che è nel cambiamento e nell'innovazione il vero tema del paese cioè non ci può essere cambiamento se non fatto dai giovani solo il cambiamento porta innovazione e l'innovazione porta ricchezze futuro in un paese dove c'è il 40% di disoccupazione giovanile e questo è un paese per vecchi questa è la verità è il miglior paese dove si può stare se uno ha più di 50 anni non è sicuramente il miglior paese dove può stare se uno ha meno di 30 anni è un paese governato nelle aziende nelle istituzioni da persone sopra i 50 anni nessuna generazione co-istituzione semi-autoriformata storicamente non si è mai rinunciato a qualcosa per cedere a qualcun altro cioè siamo tutti d'accordo che i giovani dovrebbero avere un grande futuro non siamo d'accordo avere meno sanità e meno pensioni o meno posti di lavoro oltre i 60 anni per creare poi è chiaro che uno può dire ma non deve essere un o-o ma ci sono momenti nella storia e questo purtroppo è un momento della storia italiana che è un po' così in cui è un po' un o-o perché alla fine si sta parlando di una questione che si chiama risorse pubbliche che possono andare in una direzione A e in una direzione B di scelte pubbliche che possono andare in una direzione A e in una direzione B noi abbiamo deciso di far resistere di più delle aziende e delle economie legate a queste aziende per quanto legate a un modello superato le poste sono sovvenzionate e sono la cosa migliore che c'è ma finché ci sono le poste in cui prendono lo stato X nessun altro potrà entrare in determinati settori cioè se possono fare mille di queste cose stiamo difendendo quello che c'è perché non siamo certi di quello che sarebbe perché soprattutto quello che c'è è dove noi siamo dentro e che i giovani invece non sono dentro questa cosa però secondo me forse potrebbe non essere un OO in una roba che io credo molto sembra la formula più semplice di tutti ma noi abbiamo due grandi difetti da una parte che ci convinciamo facilmente che le cose non servono quindi io vi ho raccontato tutto questo ma altrettanto facilmente un'altra persona che si può sedere qua vi può dire che tutto questo è del tutto inutile non serve stiamo benissimo come stiamo come tornando al paradigma del turismo dice non ho nessuna esigenza in Sicilia di fare queste cose tanto siamo le isole più belle del mondo e sono sempre venuti e sempre verranno questo è il nostro modo di autogiustificare il fatto che non vogliamo provare a cambiare ma invece secondo me non è così perché da quando nelle valli di montagna sono arrivate le strade per arrivarci le valli di montagna sono diventate ricche erano altrettanto belle anche quando ci si arrivava negli anni 60 con delle strade impossibili peccato che non erano altrettanto ricche allora alla fine io credo che tutto si basi su portare le strade le strade e l'infrastruttura questo in paese deve fare un investimento importante in infrastruttura di rete quando questo avverrà sarà esattamente come portare le strade e tutto succederà spontaneamente perché adesso se qualcuno dice io faccio una cosa innovativa in un posto ma non è connesso è la stessa cosa che se io aprivo un albergo in una valle di montagna quando non era connessa il posto era bellissimo ma non arrivavano le persone e dopo due anni l'albergo lo chiudevo appena la strada ci arriva ci arrivano le persone io faccio l'albergo per primo perché poi ci sono quelli che dicono ma non serve l'albergo abbiamo sempre fatto in un altro modo poi il primo fa un albergo e vede che si riempie e quell'accanto dice ma cavoli ad oggi non c'è più una valle di montagna in cui tutte le case ed erano case di persone povere valgono tantissimo una casa in località di un certo tipo montagna è tutto riconvertito è tutto avvenuto spontaneamente però se non facciamo neanche questo primo pezzo di cercare le risorse economiche per dare al paese a quantomeno un'infrastruttura di base a livello di quella europea costa miliardi non costa poco e va fatta in fretta i miliardi però si possono trovare purtroppo non lo vedo nell'agenda neanche di governi più giovani come Renzi che non dirò se sono pro o contro ma sono pro e contro diciamo da giovane mi sarei aspettato che digitale non volesse solo dire comunico meglio con gli strumenti digitali del governo mi sarei aspettato che digitale vuol dire che questo paese ha bisogno dell'infrastruttura di base io sono sicuro che quando arriva l'infrastruttura di base si muoveranno automaticamente le cose perché poi siamo un paese che ha gli strumenti culturali e anche le ricchezze del territorio della storia è per far sì che questi strumenti poi diventino nuova fonte di ricchezza buonasera tanto è una delle poche volte che sento argomenti così tecnici in questa sede però non è vero non è insomma è anche abbastanza frequente io volevo chiedere questo sì la tecnologia però noi osserviamo ed è ovvio proprio una forma di chiusura dei giovani cioè la tecnologia di chiude in se stessi hanno fatto anche delle statistiche sulla diffusione di forme autistiche addirittura dell'aumento dell'obesità aumento anche della stupidità perché è un uso consumistico che si fa della tecnologia tant'è vero che noi abbiamo anche un altro fenomeno gravissimo è quello dell'analfabetismo matematico loro credono che questi strumenti vengono fuori soltanto perché un certo scienziato matematico so in America fa qualcosa gli algoritmi sono dappertutto l'algebra di Buller di cui è strutturato il digitale cioè lo 0-1 vero falso all'era tolta prima diceva cioè ogni informazione vera falsa è 0-1 perché anche l'informazione che noi usiamo è semplicistica ancora la memoria è infinita ma la capacità di giudizio del singolo è bassissima quindi si sollevano dei problemi enormi secondo me perché non è vero che non ci sono gravi rischi e d'altra parte la tecnologia deve aumentare la robotica chi è che la ferma deve aumentare aumenterà lei l'ha detto e ci sono anche dei computer quantistici ormai che vanno al di là dell'immaginabile cioè il bit si verrà sostituito dal qubit e anche l'informatica quella che noi portiamo dentro di noi cioè il DNA che ha quattro codici verrà ovviamente utilizzata a pieno quindi siamo in presenza di un'azione straordinaria quindi io penso che il nostro errore è di non far fare grandi sacrifici ai giovani capire che è la matematica che spinge l'innovazione l'universo è scritto in lingua matematica non sono parole mie così come il digitale è scritto in lingua dell'algebra di Boole cioè 0-1 un po' che parla ecco io vorrei se poteste insomma grazie la domanda che vorrei porre al relatore è questa il processo ancora agli inizi che vorrebbe portare a colmare il divano digitale soprattutto a livello infrastrutturale ecco il governo di un paese come il nostro dovrebbe semplicemente governarlo pianificarlo incentivarlo o limitarsi a dettare regole anche ai fini così dire garantistici di tutela di una parte che si pone in una posizione difensiva e che rischia di essere estromessa da questo stesso processo e si ritiene che questa scelta possa condizionare il successo e gli obiettivi e il raggiungimento di questi obiettivi nell'ambito di questo processo sì io rispondo con qualche elemento di riconoscimento di rischio ma abbiamo detto l'educazione riguardo al digitale dei giovani e l'indagine che stiamo facendo apposta per capire i rischi collegati all'uso digitale dei social media eccetera tra i giovani rispondo proprio a questa esigenza cioè a capire meglio il rischio che hanno di perdersi e di tra virgolette instupidirsi nel bastare tutta la giornata lì attaccati a questo e questo è un rischio ed è un rischio rilevante però riguarda comunque una fascia attualmente molto limitata dei giovani fortunatamente cioè quelli che veramente abusano del loro tempo speso e perso lì dentro e tanto per appunto darvi un'idea un po' più di speranza rispetto appunto al fatto che i giovani tutto sommato un po' di consapevolezza dei rischi ce l'hanno e dei punti di riferimento solidi ce li hanno l'indagine che invece abbiamo appena fatto sulla fiducia nei confronti delle istituzioni adesso non vi dico istituzione per istituzione però ci sono almeno due punti che sono collegati alla domanda uno è la fiducia nei social network è molto bassa non è bassissima ma è a livello della canta stampata ma è comunque molto più bassa rispetto a molti altri comunque è una minoranza del 34% sostanzialmente quella che dà un voto positivo ai social network che pensa quindi che c'è da fidarsi che sono credibili che insomma sono un punto di riferimento solito mentre l'istituzione che tocca il voto più alto che ha la percentuale più alta uno vorrebbe il 100% non c'è il 100% tutte le istituzioni comunque sono schiacciate verso il basso pensiamo alla politica il governo eccetera sono tutte insufficiente ma la ricerca scientifica ottiene il 77% dei consensi tra i giovani ed è quella che ha il punto più alto degli ospedali più alto del volontariato eccetera direi che questo è un elemento su cui ancora possiamo giocare per andare esattamente a direzione di non perderli ma di agganciarci a questo per renderli ancora più soli sì io sono d'accordo ho meno pessimismo nel fatto della chiusura in loro che sicuramente c'è ma non sono tanto convinto che negli anni 60 quando si sa che pochissimi giovani leggevano almeno un giornale il resto non aveva accesso a nessuna forma di comunicazione o informazione se non stare al bar la cosa fosse migliore forse erano meno chiusi in loro ma ci sono sempre poi quando è arrivata la televisione la generazione di quelli cresciuti per la televisione io devo essere la prima generazione di rincitrulliti dal fatto che stavo troppe ore a guardare la televisione me la sono cavata lo stesso questo non vuol dire che non ci siano state nella televisione delle forme di distorsione di persone che hanno passato il loro tempo guardando solo televisione alla fine questo come ogni forma di cambiamento risiede anche negli strumenti culturali nella famiglia nella scuola nel dare non c'è il giusto e sbagliato è lo sbagliato se sto tutto il giorno a giocare ai videogiochi come era sbagliato stare tutto il giorno nella televisione o come se penso che l'unica forma di dialogo sia stare su un social network invece se mi arricchisce come strumento e in questo invece sulla cosa della scuola io sono pienamente d'accordo credo che la matematica e in generale la parte di materie scientifiche in un paese che ha visto invece le materie umanistiche dare grande importanza alle materie umanistiche anche in senso secondo me molto positivo e questo ci ha arricchito però chiaramente stiamo entrando in una fase in cui la parte diciamo di materie scientifiche danno delle interpretazioni del linguale dell'interpretazione di quello che succede che sono basi un po' come sapere il linguaggio come sapere scrivere quindi su questo sono veramente pienamente d'accordo sul fatto invece della seconda domanda dipende cosa si intende io credo che l'infrastruttura intesa proprio come fare arrivare le infrastrutture modernizzare il paese debba essere incentivata come abbiamo incentivato costruire l'autostrade come abbiamo incentivato costruire la rete energetica come abbiamo incentivato la strutturazione di quelle che sono infrastrutture del paese cioè le grandi infrastrutture del paese le possono fare privato o pubblico però normalmente richiedono investimenti tali per cui se è un benessere comune deve essere in qualche modo aiutata questa cosa sicuramente anche qui non ha aiutato il fatto che le nostre telecomunicazioni siano state acquistate in anni d'oro da persone che non avevano i soldi e si sono indebitate per comprarle e telecom fosse piena di debiti questo chiaramente storicamente nella storia del paese non ha aiutato e credo che invece lo Stato in questo caso dovrebbe intervenire nei modi che gli è consentito anche ormai facciamo parte della comunità più ampia europea quindi ma differente sono le regole una volta che c'è l'infrastruttura è come andare in autostrada c'è il pedaggio o non c'è il pedaggio a chi do la gestione dell'infrastruttura con quali regole è un livello in cui invece credo che ci devono essere delle regole in questo devo dire starei invece abbastanza attento perché noi italiani tendiamo a crogiolarci nelle regole nel digitale noi ci stiamo dando come Europa e come Italia una serie di regole tutte assolutamente condivisibili ai loro principi ma che spesso vanno sul semplice effetto di frenare la cosa non tutelando davvero il cittadino penso a temi legati alla privacy dove facciamo tantissime cose però poi in realtà il vero tema della privacy ci sono grandi operatori internazionali che di noi sanno moltissimo e che sono regolati con sistemi leggermente diversi dai nostri anche perché agiscono su un livello globale per cui a volte quello che facciamo ha poco senso quindi io sarei per regole facili nella parte di darci delle regole su questo e sarei invece per cercare di anche per il gap che dobbiamo formare proprio un investimento importante certo io non so le forme non so in che forme lo Stato possa intervenire ma credo che sull'infrastruttura di base su tirare i cavi e su questo siamo rimasti indietro di un decennio grazie mille siete stati gentilissimi grazie della vostra attenzione spero che sia stato interessante